E il Lanciano arriva a 11 ad una manciata dal fischio degli impegni ufficiali last minute di corsa cercando di sbagliare il meno possibile. Ad oggi sono 11 i tesserati, la maggior parte giovani, altri ne seguiranno nell'obiettivo della neodirigenza di allestire una squadra orgogliosa che possa andare avanti con dignità, poi si vedrà. Altri colpi interessanti arriveranno di qui al sabato con sorprese, così promettono, di livello dell'ultima ora. Il vice presidente all'Uni. Procede abbastanza bene, nel senso che abbiamo tesserato diversi giocatori. Ieri sera erano 11 tesserati e domani mattina completeremo il tesseramento degli altri giocatori. Siamo pronti ad affrontare domenica la prima partita di campionato. Che organico è? È un organico giovane, la squadra è comunque molto giovane e abbiamo alcuni innesti di esperienza ma comunque l'organico è buono. Qualche nome? Qualche nome, quelli che sono già usciti già li sapete, quindi Lolli, Antonio e non mi ricordo francamente il cognome. In fretta. Sì, tutto troppo in fretta. Il nome che sto cercando di portare, ci ho parlato oggi a mezzogiorno, è Saveri Pedalino, che ho già avuto alla Folgore diversi anni fa, si è dimostrato disponibile e stiamo trattando per poterlo avere con noi. È un difensore centrale che scende dalla Serie D. Vediamo, però anche qui siamo in trattativa. Questi due ragazzi spero di portarli perché stanno il completamento della rosa che abbiamo già fatto. Che giudizio diamo? Che rosa è? È una rosa, come ho detto all'inizio, partiamo bassi. Noi ci vogliamo salvare, però poi il campo ci dirà se si può fare di più o meno. Io però sono fiducioso. La Presidentessa che dice? Il taccuino pronto? No, io devo guardarmi i nomi perché ragazzi, io ancora non riesco ad abituarmi. Li conosco da pochissimo, quindi per la molta il cielo. Però devo dire che oggi ho cominciato a vedere qualcosina di più già nella tecnica, nel modo di giocare. Devo dire, oggi mi sono divertita. Il primo giorno era un pochino più titubante. Ma perché? Perché comunque anche purtroppo per il Covid molti di loro hanno cercato di mantenere. Ovviamente l'allenamento però non era certo ai livelli che si possono realizzare appunto con tutto il direttorio che li seguono costantemente dalla mattina alla sera come adesso, assolutamente, creda. Mai come oggi, perché davvero ho visto una situazione completamente diversa, proprio magicamente trasformata solo in 24 ore. Quindi insomma, come dico io, sono molto fiduciosa, molto, molto fiduciosa.